Sì, allora, benvenuti a tutti, vi ringrazio per la presenza da parte mia e da parte del Casa delle Donne di Ravenna, questo panel appunto discuteremo di donne, economia e politica con Giovanna Badalassi di Ladynomics, intanto presento appunto la nostra speaker, la nostra ospite, Giovanna Badalassi, è una ricercatrice esperta di economia nel campo sociale e welfare e ulteriormente specializzata sulle tematiche di genere, in cui appunto andremo a parlare più precisamente nella sessione di oggi. Giovanna ha lavorato come consulente e lavora come consulente tuttora per numerose amministrazioni, ONG, istituti e per l'Università di Modena di Leggio Emilia ed è coattrice del blog di Ladynomics con Federica Gentile. Io invece sono Lucia Marchetti, studio politiche per la cooperazione internazionale allo sviluppo e scrivo di tematiche di genere per Jefferson, una newsletter che si occupa di politica americana e sarò appunto la moderatrice di questo panel. Come ho detto prima, però lo ripeto perché si sono aggiunte da altre persone. Per comunicare con noi dovete usare la chat, la chat della sessione, così io poi alla fine potrò vedere appunto le vostre domande e rivolgerle appunto a Giovanna, sperando di appunto riuscire a introdurre tutto, insomma includere tutto. e allora quindi abbiamo parlato di donne economia e politica. A questo punto io direi di iniziare con la parte sull'economia. Una riflessione che ci tengo a fare è che spesso nel discorso pubblico il genere viene poco menzionato, comunque le tematiche di genere vengono forse un po' accantonate quando si parla di economia. E la mia domanda appunto per iniziare per Giovanna è è il momento di cambiare questo discorso adesso e i rapporti tra le donne e l'economia meritano un'attenzione particolare o no? C'è un motivo per cui è necessario parlare più di donne ed economia? Ma l'economia sa benissimo che le donne esistono e che le donne è il viceversa, che ogni tanto ci perdiamo un po' per strada. Nel senso che io chiaramente ho fatto economia, quindi come dire ho un taglio, una chiave di lettura che sicuramente è meno condivisibile rispetto a che ho fatto altri percorsi. Però se tu studi qualsiasi strategia di marketing, qualsiasi strategia di vendita, le aziende sanno benissimo che esistono le donne come consumatrici. Il pubblico è ancora difficoltà ad accogliere e le donne stesse hanno difficoltà a presentarsi, a proporsi come invece cittadine. Quindi c'è questa schizofrenia per la quale le donne sono analizzate, studiate, sezionate, targetizzate, profilate, perché alla fine sono quelle che hanno in mano il controllo del consumo. Il 65% dei consumi passa attraverso le decisioni di spesa delle donne e soprattutto i consumi quelli quotidiani, non quelli compro la casa, la macchina, che sono, come dire, consumi rilevanti in termini di valore, hanno quel controllo quotidiano del reddito familiare. Siccome le donne a tutt'oggi, quelle che comunque fanno di più la spesa, hanno più la cura delle persone, dei bambini, eccetera, sono i decisori di spesa. Addirittura pensa che c'è, se non sbaglio, tipo il 75% di donne che vanno a comprare i medicinali. Ma se tu consideri anche i decisori, quindi quelli che mandano i mariti, i figli e i nonni a comprare le medicine, la decisione di acquisto, se non sbaglio, arriva quasi al 90%. Quindi questo è un esempio chiaramente legato alla farmacia, che è uno degli ambiti più femminilizzati in assoluto. Quindi l'economia sa benissimo che esistono le donne, non lo dice ma le studia, perché chiaramente le donne sono delle fortissime consumatrici. Però invece quando passiamo nella dimensione, che però diciamo il consumo è ancora una dimensione privata, perché chiaramente sei un singolo consumatore e quindi in qualche modo il consumatore è influenzabile, controllabile, si può in qualche modo condizionare. Diverso è quando noi invece vediamo le donne come cittadine. In quel senso siamo ancora molto indietro, quindi le donne hanno avuto il voto solo nel 46 e quindi sono diventate elettrici attive, però non siamo ancora adeguatamente elettrici passive, soprattutto non abbiamo ancora imparato ad essere bene cittadine. Nel senso che essere cittadini non vuol dire solo votare quando c'è un'occasione, ma vuol dire anche esercitare una forma di cittadinanza, di pressione, quello che stiamo facendo oggi. Oggi stiamo potenziando il nostro ruolo di cittadinanza e in tutto questo poi si colloca l'economia, quella pubblica, quella della decisione politica, del PNRR, del Recovery Fund e in tutto questo noi tendiamo un po' a scomparire. Un po' anche per una questione nostra, nel senso siamo magari delle grandissime contabili della contabilità di famiglia, quando si comincia invece a passare, si passa alla contabilità dell'azienda, la contabilità pubblica, improvvisamente diventiamo, come dire, siamo abbastanza... Sì, compariamo. È una questione di identità di ruolo, perché come dire, se tu sei capace a fare i conti li sai fare in ogni contesto, però c'è proprio un problema di identità e di ruoli sia da parte delle donne che da parte degli uomini e da parte del sistema stesso, a come dire, cogliere questo passaggio proprio concettuale di ruoli. Ricordiamoci che economia è la regola di funzionamento della casa, OICOS è la casa, quindi si parte dall'economia domestica, quindi dove le donne sono comunque grandi manager dell'economia domestica, però c'è stato negli anni, soprattutto con la rivoluzione industriale, eccetera, e quindi col controllo anche dei soldi, del patrimonio, dei soldi esterni, quindi quei soldi al di fuori della famiglia, che in qualche modo ha creato una segregazione di ruoli, una segregazione quindi anche economica. Certo, infatti la mia prossima domanda riguardava proprio questo, cioè il fatto che le donne hanno sempre avuto un ruolo consolidato, come dicevi anche tu, legato all'economia familiare, alla gestione dell'OICOS, però non è lo stesso per quanto riguarda appunto l'economia delle politiche pubbliche, quindi del mettere insomma la nostra opinione anche in quello che non riguarda solamente la sfera del privato e della decisione familiare, ma quello che riguarda appunto il pubblico e che riguarda tutti. E quindi io volevo sapere appunto la tua opinione sul fatto che un'economia dalla parte delle donne e non subita da esse, quindi un'economia pubblica, è possibile, cioè in che termine è possibile e soprattutto che cosa ci dicono gli indici anche economici per quanto riguarda l'inclusione delle donne a livello decisionale in Italia? Ma intanto io dico sempre che più che essere incluse le donne si devono auto-includere, nel siamo più della metà dell'elettorato, quindi non si capisce perché dobbiamo chiedere ancora qualcuno che come dire ci faccia entrare nelle regole del gioco, le regole del gioco abbiamo già il potere di farle da noi perché siamo più della metà dell'elettorato, questo lo dico chiaramente in termini di provocazione perché non mi sfuggono tutte le difficoltà di culturali, di ruoli sociali, non mi sfugge niente, però se guardiamo ai numeri, giusto perché visto che parliamo di economia l'ude cruda, i numeri ci dicono che nessuno ci deve includere perché siamo già mani e piedi dentro al sistema. Invece sul discorso del perché appunto c'è questa ritrosia, intanto ricordiamoci che l'economia pubblica è come dire una forma di, è in alleanza con l'economia privata e quindi c'è l'economia aziendale che in qualche modo delega al pubblico determinate funzioni, per esempio non ci ricordiamo mai che la sanità prima degli anni 70 era gestita direttamente dalle aziende, non c'era il sistema sanitario pubblico, era gestito dalle grandi aziende eccetera eccetera, quindi con gli anni e soprattutto con l'emancipazione femminile diciamo si sono condivise a livello pubblico determinate, quelle che prima erano magari politiche sociali o politiche economiche private si sono in qualche modo spostate sullo Stato. In questo senso quindi parliamo sempre di soldi che hanno un'interpretazione diversa esattamente come sono i soldi quelli legati all'ambiente, nel senso che i soldi della famiglia sono soldi che si spendono per il bene della persona, quindi ha un potere del denaro, di benessere della persona. Al di fuori della famiglia è molto più difficile avere questo tipo di prospettiva, quindi i soldi esterni alla famiglia molto spesso sono legati a dinamiche di potere, dell'accumulo dei soldi fino a se stessi e in questo chiaramente c'è lo scontro con l'interpretazione del ruolo delle donne. Questo lo vedi molto bene anche nelle dinamiche ambientali, nelle differenze tra come l'economia e il sociale interpretano l'ambiente, perché se tu vai a notare il grande attivismo ambientalista è guidato dalle donne, perché per le donne l'ambiente è il luogo di vita. L'economia invece, dove chiaramente c'è il potere soprattutto maschile, l'ambiente ha una risorsa da sfruttare fino a se stessa per l'accumulo del profitto. E in questo, come dire, conflitto di ruoli, di stereotipi, che chiaramente sto estremizzando, si gioca un po' quello che sta succedendo in questo periodo. Ora siamo alla confluenza della crisi ambientale, della crisi tecnologica e della crisi sanitaria e di cura. E quindi queste tre crisi messe tutte insieme ci spingono a una ridefinizione dei ruoli e nell'ambito della ridefinizione dei ruoli anche a un tarare diverso rispetto al chi fa che cosa, quindi a superare questa segregazione che abbiamo nei ruoli sociali e anche economici. Questo chiede anche a noi donne di fare un grandissimo salto di qualità, perché ti dico che noi siamo abbastanza suicide nel fare un blog su economia politica di genere, perché comunque è un argomento che non ha quell'elemento di emozione, di emotività, che in qualche modo attira sempre di più i famosi gattini. Intanto diciamo mettiamo qualche bel gattino per qualche posto un po' più difficile. Però c'è proprio un percorso di educazione collettiva, non individuale, di educazione collettiva a reinterpretare queste dinamiche di potere a seconda del nostro ruolo. E in questo momento storico ce n'è un grandissimo bisogno, perché la crisi sanitaria di cura non solo noi siamo quelle che la stanno pagando di più, ma siamo quelle che hanno la ricetta per superarla. Perché è una crisi che riguarda le persone, non riguarda l'economia, non riguarda le infrastrutture, non riguarda i soldi. Quello è una conseguenza chiaramente della crisi delle persone. Esatto. E a proposito proprio dell'opportunità di cambiare la struttura anche dello sviluppo per il futuro. Io ho letto appunto il resoconto sull'audizione alla Camera dei Deputati sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che è il piano di investimenti che l'Italia dovrà presentare per ricevere appunto i fondi del Next Generation EU. Nel piano c'è la missione 5, che è denominata quella di inclusione e di coesione, che tra i suoi punti riguarda anche, diciamo a livello trasversale, poi sono trattati anche in altre parti, però il sostegno appunto all'empowerment femminile, così denominato, e al contrasto delle discriminazioni di genere e i punti sull'incremento delle competenze e le prospettive occupazionali, sia dei giovani, sia per quanto riguarda lo sviluppo del mezzogiorno. Le risorse complessive destinate alla missione sono a Montano 27 miliardi circa e sono il 12% delle risorse totali del piano. E tra queste, quali sono effettivamente le proposte per l'inserimento delle donne? E se ce ne sono in un certo senso, che strategia seguono? Perché si parla di gender mainstreaming e appunto voglio fare un po' di chiarezza anche magari sui termini, perché magari non tutti sono a conoscenza appunto del significato, e se appunto tu ritieni valide insomma questa esposizione del piano e se manca qualcosa che potrebbe essere integrato. Ma intanto bisogna chiarire come è nato il piano, nel senso che il piano è nato in piena emergenza della prima ondata Covid. L'Unione Europea ha fatto un mezzo miracolo perché è riuscita in pochissimo tempo a mettere d'accordo 27 nazioni e a dare all'Italia la stragrande maggioranza delle risorse, quindi hanno dovuto superare anche loro bravi stereotipi eccetera. È chiaro che dovendo fare come sempre le cose di fretta non riesce a ragionare, non riesce a fare le cose assolutamente consapevoli e quindi sono andati un po' col pilota automatico e quindi come dire hanno fatto un po' la lista della spesa, delle grandi leve di competizione anche geopolitica mondiale sulle quali hanno comunque concentrato l'attenzione, quindi il 57% delle risorse è stato destinato alla digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura e alla rivoluzione verde e alla transizione ecologica. Andando un po' col pilota automatico nel senso che hanno detto vabbè quali sono i obiettivi di sviluppo del millennio, quali sono le cose sulle quali l'Europa è più carente, andiamo, crisi climatica nessuno la mette in dubbio, digitalizzazione è la cosa del futuro e nessuno ha messo in dubbio come dire queste autostrade per lo sviluppo. È chiaro che però dedicando il 57% delle risorse a settori dove c'è una larga, larghissima, enorme, preponderante presenza di occupazione maschile, le donne rimangono tagliate fuori perché sono settori economici nei quali le donne non lavorano, non lavorano nelle infrastrutture, non lavorano nella mobilità. La stragrande maggioranza delle donne lavora nei servizi, nel sociale, nell'istruzione e tutto quello che è relazione al pubblico e alla persona. Anche in questo caso il mercato del lavoro ripropone gli stereotipi che le donne sono tanto brave con le persone, grande capacità di relazioni, empatia, bla 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 e quindi la crisi ha segato tutti i posti di lavoro possibili e immaginabili nelle quali le donne si concentravano di più. Quindi è nata come la campagna europea Half-Wit che ha detto no bisogna fare qualcosa eccetera eccetera. E quindi il piano è partito già con questa forte penalizzazione intrinseca che non era come dire determinata dalla volontà di penalizzare delle donne ma dalla volontà come dire di cogliere un po' certe dinamiche economiche di sviluppo del futuro. La conseguenza però è quella che le donne sono utilizzate anche perché oltre a questo 57% che viene come dire già preso un pacchetto e a esagerare le donne saranno 10, 15, 20% ma proprio esagerare. Ci sono anche le altre linee dove appunto si investiamo nella sanità ma in cosa? La sanità. Si investiamo nelle scuole ma in cosa? Digitalizzazione delle scuole e investiamo nelle strutture. Quindi alla fine stringi, stringi, stringi se tu vai a vedere i posti di lavoro cash che tu puoi in prima battuta produrre per le donne siamo veramente come dire abbastanza ridotte, abbastanza basse. Chiaro che stiamo parlando della prima linea di occupazione che viene creata da questo piano perché poi è chiaro che se io occupo 20.000 persone a fare delle infrastrutture questa loro volta consumeranno di più, andranno di più nei negozi, i negozi assumono di più le donne e quindi c'è una ricaduta. Però è chiaro che il primo impatto è quello, lo shock di sistema e quindi prima che questo shock di sistema positivo raggiunga le donne ce ne sarà ancora un bel po' da gestire. Allora chiaramente si cerca di fare delle correzioni in corsa perché chiaramente poi quando è partita tutta la campagna europea anche l'Unione Europea si è resa conto che se tu non fai lavorare anche le donne che non partecipano al mercato del lavoro, soprattutto in Italia dove siamo le penultime a livello europeo, condizioni la possibilità di aumentare il PIL che è la grande scommessa del PNRR, la grandissima scommessa che noi ci stiamo indebitando con l'idea che poi produrremo di più PIL e quindi pagheremo questo debito in più che stiamo facendo. Allora stanno cercando di fare delle correzioni in corsa e la correzione che hanno fatto nelle linee guida ai paesi che hanno dato adesso a gennaio è stata proprio quella di prescrivere, di chiedere agli stati di mettere in loro piani questo gender mainstreaming. Gender mainstreaming è una parola chiave strategica emersa nel 95 con la quarta conferenza mondiale di Pechino che vuol dire andare a cogliere l'impatto delle politiche sulle donne in ogni ambito economico di azione. Quindi parliamo anche di qual è l'impatto sulle donne nelle infrastrutture, nei trasporti, sviluppo economico, edilizia, tutto. Questo è chiaramente un impatto rivoluzionario perché comunque fa uscire un po' le donne dal ghetto degli asili nido, del sociale, delle politiche per la famiglia e le rende cittadine a pieno titolo. Quindi anche le donne si occupano di infrastrutture, si occupano di trattare le decisioni in queste politiche e si piglia la consapevolezza che hanno un impatto diverso su donne e sugli uomini, sempre per un discorso di diversi stili di vita. C'è stata un po' la diatriba, facciamo gender mainstreaming o facciamo politiche dedicate, a nostro parere il problema non si pone perché la quarta conferenza ha detto chiaramente che si fanno entrambi, una cosa anzi non deve escludere l'altra, perché il gender mainstreaming è trasversale in un certo senso un'azione di sistema e come tutte le azioni di sistema interagisce con una platea ampia e abbastanza, che si legge in maniera abbastanza modica. L'empowerment e quindi le azioni specifiche dedicate sono quelle che devono essere mirate all'immarginalità, alle fasce di difficoltà, agli spazi di crescita più precise e puntuali, quindi devono essere due strategie assolutamente complementari, una non deve assolutamente escludere l'altra. Quello che chiaramente allora in questo momento si cerca di acquisire è la consapevolezza che per riequilibrare comunque questo squilibrio che crea bisogna fare un grossissimo investimento in infrastrutture sociali perché ce n'è bisogno da anni, perché siamo anche qui a penultima posizione in tutta Europa e perché creano l'ambito nel quale si può esprimere il tasso di occupazione femminile. I paesi nordici sono i paesi che hanno i più alti tassi di occupazione femminile perché hanno un grossissimo sviluppo del welfare pubblico. Noi in Italia abbiamo il welfare famiglista che preferisce dare i bambini ai nonni piuttosto che darli all'asilo nido o alla visitra pagamenta, sto chiaramente estremizzando. E quindi siamo sempre in quest'area di welfare sommerso che un po' corrisponde, e io faccio sempre questo parallelismo, corrisponde l'economia sommersa al sommerso anche in termini di evasione fiscale. Quindi noi in Italia dovremo gradualmente procedere verso una forma di regolarità nel rapporto, quindi rivedere il ruolo dello Stato nella nostra economia, nella nostra società, col quale si pagano un po' più le tasse e si passa un po' di più attraverso i servizi del welfare e i lavori di cura e quindi si crea anche più occupazione femminile. Quindi è proprio un percorso progressivo. L'idea di superare il problema dell'occupazione femminile facendo entrare più donne nei settori tradizionalmente maschili, quindi parlo degli STEM perché è l'elemento che in questo momento è più diffuso come dibattito pubblico, per il PN è una cosa lentissima, nel senso che in dieci anni a l'europeo questo riequilibrio è progredito del 0,4%, cioè è una cosa irrisoria. Le STEM interessano un'elite perché se vogliamo invece parlare di massa occupazionale siamo ancora in una forte segregazione. Soprattutto ricordiamoci che il PNRR dura sei anni e quindi non abbiamo neanche il tempo di formare le STEM che ci servirebbero per equilibrare la presenza degli uomini in quei settori. Certo, c'è anche da recuperare gli anni passati, i decenni passati in cui comunque queste politiche non sono state fatte. È il problema che abbiamo visto durante la crisi anche con i medici, che improvvisamente potevamo comprare milioni e miliardi di ospedali, attrezzature, piccolo particolare, mancavano i medici, hanno fatto una politica di penalizzazione per i medici, tra l'altro adesso ci sono più donne medico che uomini, negli ultimi dieci anni non è che tu un medico lo formi da un giorno all'altro, no? E lo stesso problema ce l'abbiamo su tutte queste figure speciali, ci sono non so quanti miliardi sul 5G, sulla mobilità elettrica e quelle sono tutte professionalità che ci vogliono anni per formarle. Quindi, chiaro, bisogna iniziare adesso per averle tra qualche anno, ma non possiamo contare su questa leva per, come dire, avviare lo sviluppo per la parte delle donne con il PNRR in questo momento. Certo, assolutamente. E allora abbiamo parlato di economia e passerei invece dalla parte più sulla politica. Intanto invito a chiunque abbia domande a rivolgerle nella chat, così poi dopo insomma le tre, dopo che abbiamo finito il nostro discorso più generale, cerchiamo di risponderle prima che si chiuda il nostro panel, così poi possiamo invitare gli altri a spostarsi sugli altri e non rubiamo tempo agli altri. Per quanto riguarda la politica, allora in Italia ci sono poche leader di partito donne e quelle che ci sono di solito sono espressioni magari di partiti un po' più piccoli. Però io volevo sapere che tipo di leadership femminile esiste in Italia e quale tipo di leadership dovrebbe esistere? Io mi sono fatta un po' una mia idea. Ad esempio mi riferisco a quello che può essere l'esempio di Giorgia Meloni, no? Ci sono tanti richiami alla maternità anche nel suo tipo di politica, però è davvero un tipo di leadership materno di un certo tipo oppure segue più un ramo di politica testosteronica? E poi volevo sapere appunto sia la situazione italiana che quella europea. Secondo te come, che tipo di leadership? Su questo diciamo che su tutto il ragionamento sulla leadership io faccio sempre una netta distinzione tra il principio di non discriminazione e il femminismo, che sono due cose completamente diverse ma una dipende dall'altra. Se parliamo in termini, cioè la Costituzione dice senza discriminazioni di sesso, razza eccetera eccetera, quindi la non discriminazione in termini di sesso vuol dire che le donne devono poter fare qualsiasi tipo di politica decidano, qualsiasi, sinistra, destra, centro, sopra, sotto, qualsiasi, e non essere penalizzate rispetto agli uomini in tutto il processo di selezione della classe politica dirigente. Questo è un principio di non discriminazione che in qualche modo vale per la singola persona, ma dal punto di vista collettivo non esprime assolutamente niente in termini di contenuti perché appunto non devono essere discriminati ma possono dire assolutamente quello che vogliono. E questo è un principio di democrazia sacrosanto, la famosa libertà di parola, libertà di pensiero, libertà di contenuti. E questa è una parte che mettiamo da parte e quindi l'importante è che ci siano un numero rappresentativo di donne, va bene. L'equivoco che si genera è quello di dare sempre per scontato che se c'è una donna leader automaticamente corrisponde allo stereotipo dei valori femminili e poi c'è il passaggio ai valori femministi. Allora, tolto il principio di non discriminazione ed è chiaro che a quel punto c'è da ragionare su quali sono i valori femminili e femministi e soprattutto come questi possano essere utili in questo momento storico e debbano essere aggiornati, relaborati rispetto al momento storico che stiamo vivendo. E qui secondo me c'è tutto un lavoro anche di ragionamento collettivo da fare perché negli anni Ottanta si è affermato molto questo concetto di femminismo individuale, che quindi sei una femminista se tu fai carriera, se ti affermi in maniera eccetera eccetera. Però io la spostiamo appunto sui contenuti. Quale partito in Italia oggi propone dei contenuti, ha delle proposiche femministe? Nessuno, né sinistra né destra, proprio né sopra né sotto, cioè zero. A esagerare abbiamo la solita cosa della famiglia, le politiche della famiglia, ma proprio esagerare, esagerare e sappiamo benissimo che quanto questo sia segregante quando ci concentriamo su questo tipo di politiche e basta, sia a sinistra che a destra. Quindi il discorso della leadership materna, che so che l'hai citato perché abbiamo scritto in merito su... Sì, sì, mi era piaciuto quel pezzo perché volevo legare un esempio... L'avevo legato, l'abbiamo usato in maniera un po' provocatoria perché la dimensione materna è vista in maniera distorta in questo momento da tutte le parti, nel senso da una parte è vista la madre tradizionale, appunto richiamava quella tradizionale anni 40, proprio tradizionale, stereotipata al massimo livello. Dall'altra parte invece è proprio perché è vista in questo modo, c'è una forma di fuga, quindi c'è una forma di dissociazione per la quale la tua dimensione materna è esclusiva dal problema tuo privato familiare, quindi non si riconosce una identità collettiva e pubblica alla dimensione materna. Io vedo la dimensione materna come un discorso formativo col quale noi siamo nate, non con un discorso di aver avuto dei figli o meno. Noi tutte siamo stati... Nella vita non le abbiamo fatti, i figli non li abbiamo voluti, volenti, qualsiasi scelta abbiamo fatto nella vita. Le nostre madri... Abbiamo avuto nel libro di questa è una femmina, farà la madre, questo è un maschio, quindi farà padre. Questa esperienza di vita, ci sei? Ti ho perso? No, no, io ci sono. Mi so se... Ok, ho perso il tuo video. Questa esperienza di vita, sì. Può essere perché magari c'è qualche problema di connessione, però ci sono. Questa esperienza si riflette in valori, priorità, la famosa empatia che hanno le donne, nella relazione con il pubblico, e ancora oggi c'era un'intervista della rettora Polimeni, della Sapienza di Roma, che diceva che le donne hanno più empatia. Ma perché abbiamo più empatia? Hanno dimostrato in ogni modo che non è biologico questa caratteristica. Eppure, effettivamente, nell'esperienza comune, tutti i giorni, c'è questo comune denominatore. E questo comune denominatore è proprio i primi anni della nostra vita nei quali noi siamo formati a dei modelli educativi diversi rispetto ai nostri fratelli maschi. Questo è proprio un dato di fatto che, sì, col tempo evolve tutto. Questi diversi valori si riflettono poi in leadership comunque diverse. E il momento storico premia le leadership di donne, che ha dei contenuti politici che a seconda del momento storico sono diversi. Quindi nel nostro articolo facevamo l'esempio della Thatcher, che lei interpretava dei contenuti politici assolutamente maschili, aveva dichiarato la guerra alle Falkland, è una guerra a Fondaia, assolutamente testosteronica, quindi più uomo degli uomini, perché il momento storico ha premiato quella figura. Ma oggi non se la filerebbe nessuno una come la Thatcher, non è una presenza che verrebbe accettata, perché in questo momento storico, proprio perché siamo nel pieno di una crisi di cura e sanitaria, prevale una leadership, io l'ho chiamata materna, con provocazione, proprio perché mi sono presa legnati da tutte le parti, da sinistra e da destra. Perché c'è ancora questa difficoltà a costruire una dimensione materna nel discorso pubblico, che non sia quella stereotipale, che è una fase individuale nella tua famiglia. Siamo tutte unite da questa esperienza comune e non possiamo, secondo me, esprimere la nostra cittadinanza in senso collettivo, ignorando questo imprinting iniziale che ci udisce a tutti. Quindi se riusciamo a elaborarlo e a definirlo in una proposta politica, secondo me, allora a quel punto veramente si riuscirà ad avere la famosa unità politica delle donne che in qualche modo chiedono alla politica queste cose, perché in effetti la politica risponde quando la cittadinanza in qualche modo chiede in maniera massiva. e il fatto che nessun partito proponga dei contenuti e una proposta femminista in qualche modo ci dice che non c'è un consolidamento di domande in questo senso. Pensiamo se oggi dovessimo approvare, dovessimo spingere a livello sociale per una legge rivoluzionaria come è stata negli anni 70 quella della separazione o dell'aborto. Oggi sarebbe inconcepibile trovare questa unità anche tra le donne proprio. E quindi noi siamo sempre in mezzo alla storia, si tratta di, come dire, accompagnare la storia e cercare di, come dire, seguire l'onda e di trovare la migliore condizione possibile per poter crescere nella nostra dimensione di cittadinanza. Per quanto riguarda appunto la leadership di cui abbiamo parlato, mi viene in mente che in Europa ci sono degli esempi come quello appunto di Angela Merkel che era citato nel vostro articolo e la famosa, anche cosiddetta Mutti, no? Proprio come questa figura di una madre della nazione tedesca che è da 15 anni che insomma governa e quindi praticamente ha anche cresciuto delle generazioni sotto la sua politica. E adesso anche quello di Ursula von der Leyen, un'altra figura di un certo tipo, insomma, che ha anche un lato materno con i suoi sette figli, però è comunque un certo tipo di politica anche piuttosto forte e credo che in Italia appunto forse questo tipo di leadership ancora non l'abbiamo maturata e non è stata ancora creata perché appunto vengono quel tipo di discorso un po' appunto accompagnato da pregiudizi che per fare un certo tipo di politica anche femminista non si deve avere questo tipo di leadership ma deve essere un tipo di leadership più forte. Tanto ricordiamo che la Merkel comunque non è un personaggio di sinistra, è un personaggio di centro, democratico, che ha un elettorato che ha premiato le sue qualità materne di mediazione all'infinito, è una mediatrice pazzesca, di moderazione, di rassicurazione, che sono tutte caratteristiche molto materne senza essere necessariamente femministe nella tradizione del solco degli anni 70. Però la storia sta andando verso quella direzione, quindi le prossime leader secondo me avranno un po' quel tipo di aplomb. Bisogna ricordarsi però che per avere una vera leader femminile, femminista, barra materna, quindi che non sia una copia degli standard, degli stereotipi maschili, ci vuole anche un elettorato in grado di riconoscere, di apprezzare questo tipo di proposta politica. Quindi non è solo il problema di trovare la donna giusta con la faccia giusta, il modo di parlare giusto, cioè non è solo un problema diciamo di casting, è un problema di costruire dei contenuti politici, trovare la persona giusta che li interpreti e che questi contenuti vengano condivisi, riconosciuti e soprattutto votati da un elettorato interessato a questo approccio. È la Germania che ha votato la Merkel e la von der Leyen, non siamo noi, noi due personaggi così probabilmente su 60 milioni di abitanti ce li abbiamo, come dire, in casa, due personaggi così, ma non li voteremmo. Quindi è un problema che non parte dalla classe dirigente e scende verso il basso, ma è il contrario, parte da un cambiamento collettivo di valori, di condivisione, per poi salire e trovare degli interpreti di questi valori condivisi. Io spero che questa Covid e tutte queste altre innovazioni tecnologiche e crisi diciamo ambientali in qualche modo orientino in maniera diversa i valori e i contenuti politici e ci permettano anche a noi donne di elaborare diversi contenuti. Ora, il populismo è stata una reazione un po' isterica a delle disuguaglianze territoriali, economiche, sociali, micidiali prodotte dalla globalizzazione. Il Covid bene o male ha zittito praticamente nel giro di un mese tutte queste isterie populiste che ci sono anche di tutti i tipi, di sinistra, di destra, di qualsiasi modo. Ora si comincia a rimettere la testa sui problemi, a rimettere la testa sulle cose, però siamo in un momento di sospensione che dovrebbe essere usato bene per ragionare collettivamente sui valori, quello che si vuole fare in futuro. Quindi non solo i partiti si stanno in qualche modo riposizionando e riorientando con qualche scrollone che vediamo in questi giorni, ma anche noi come cittadini dovremmo un attimo rimettere un po' in sesto tutto quello che vorremmo ottenere dalla politica. Perfetto, perfetto. Vedo che non ci sono delle domande specifiche, se ci sono, se riuscite fatele adesso perché altrimenti tra cinque minuti qua il sistema purtroppo ci sbatte fuori, però vedo molti complimenti a Giovanna che mi sento di fare anche io e la ringrazio nuovamente per il suo intervento e per essere stata con noi. Quindi aspetto un momento, vediamo se arriva qualcosa. Trovo molto interessante lo stimolo a non ignorare l'esperienza comune a quasi tutti noi che associa l'essere donna all'essere madre. Faccio però fatica a immaginare come questo possa essere un punto di partenza e anzi di forza e non in un certo senso una zavorra. Può riprendere questo tema? Sì, riusciamo in due parole. Allora, è una zavorra se noi ci inseriamo nel sistema che avevamo prima nudo e crudo come era, perché il sistema come era prima era un sistema patriarcale, militare, competitivo, Wall Street. Allora, se noi dobbiamo entrare in quel sistema e accettare pienamente quelle regole, quei ruoli, è chiaro che è una zavorra la maternità. Qualsiasi azienda multinazionale competitiva, eccetera, eccetera, cerca di escludere la maternità perché comunque è un elemento di appesantimento della produttività della forza lavoro. Però in questo momento storico il sistema ha avuto uno scrollone tale che è possibile immaginare economico a misura delle persone e non le persone a misura del sistema economico. In fondo a partire dagli anni 80 siamo arretrati come cittadinanza, come cittadini man mano che aumentava il nostro ruolo di consumatori. Il concetto di maternità vuol dire mettere le persone al centro dell'attenzione e non i soldi. In questo senso vuol dire una nuova forma di umanesimo però agito dalle donne e quindi in questo senso è un valore aggiunto in più. Già adesso in alcuni settori economici non so se parli delle pubbliche relazioni essere una donna ma non vuol dire essere una donna come sesso essere una donna quindi con tutto questo background di empatia relazioni emozioni che è un background educativo e culturale legato comunque a un destino di materno che in qualche modo le nostre famiglie ci hanno trasmesso già adesso in alcuni settori economici è un valore aggiunto in più questo quindi si tratta come dire di di accettare cioè di accettare di valorizzare il fatto che la maternità potenziale chiamiamola non è una zavorra nella misura in cui cerchiamo di modificare il sistema e il sistema comunque si dovrà modificare anche da solo perché comunque l'abbiamo visto con la crisi climatica come dire o finiamo su Marte o se no il sistema come dire è una forma di autoregolamentazione che adesso sta succedendo nel sistema perché l'America sta aprendo alla tassazione delle grandi multinazionali cioè c'è un po' un riassestamento anche del ruolo dello Stato nell'economia che in questi ultimi anni lo Stato stava praticamente scomparendo ma in tutte le economie non solo nel nostro paese la crisi anche il sistema economico ha capito che ha bisogno di più Stato quindi si sta un po' riformando quello che poteva essere il ruolo dello Stato diciamo nella gestione della vita delle persone eccetera quindi è un po' tutto da rivedere interessante da elaborare però chiaramente si può andare avanti o indietro quindi bisogna stare molto attenti perché già fatto di essere chiusi in casa a fare smart working è un elemento di arretramento quindi come dire è un momento veramente di crisi nella definizione tipica della crisi quindi che si può come dire che è il momento della decisione bisogna un po' decidere da che parte stare o meno esatto esatto bene dai ci siamo stati un po' nei tempi un po' così ci sarebbe stato sicuramente qualcos'altro da dire però speriamo di poterlo rimandare a un altro momento più tranquillo speriamo magari anche in presenza prima o poi quindi io ringrazio ancora Giovanna ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito e vi invito a seguire gli altri panel e a supportare anche delle speaker moderatrici insomma in questa giornata quindi vi ringrazio ancora vi saluto ciao 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 ciao